Ora chiamo Melania Cettarani, dopo il primo precedente e la seconda presidentese del Chico è stato un caso sicuramente, però poi si è mantenuta, credo, negli anni l'alternanza maschio-femina per tanto tempo è stata così, si è mantenuta l'alternanza, allora io sono candidata anch'io come vedete di una città in comune e quando mi è stato chiesto di candidarmi, ho chiesto insomma mi piaceva, l'avevo già votato l'altra volta eccetera e mi ho chiesto di sapere un pochino chi erano gli altri candidati, perché non mi volevo ritrovare una lista dove c'era qualcuno che insomma non mi piaceva, ma non mi sono, mi è stato mandato l'alternanza, c'era un casino di gente che era stata al Chico, ho detto ma dai, fantastico, cioè veramente ho detto ma non ho parole, cioè veramente insomma i frutti non cadono lontano dall'albero questa è una delle cose più belle, cioè che appunto trasforma la vita, la questione dell'impegno in prima persona, la fatica e l'impegno in prima persona, io vabbè ovviamente faccio la vecchia saggia, cioè tanto ormai quello poco più, cioè saggia no ma vecchia sì, alla qui praticamente non c'era niente tutto questo, c'erano macellerie alimentari, alcune già chiuse ma la maggioranza invece erano aperte e la piazza era abbastanza liberata, qua era insomma come credo fino a poco tanto fa c'era un odore di pipì pazzesco, tutti si portavano a fare la pipì il cane e un sacco di anche esseri umani, insomma ci faceva la pipì. E allora, una delle cose che ci vanno in mente per migliorare la situazione era di iniziare a farci delle feste e quindi questa è una delle cose veramente più faticose, massacrante, però veramente bellissime che facciamo, perché abbiamo iniziato con poco però mettendo insieme l'altra associazione, abbiamo iniziato con l'arci ragazzi che veniva il pomeriggio a fare un'animazione per i bambini, abbiamo iniziato poi a fare la cena per, a offrire cena nel podo, couscous con file che non finivano più, dovevamo mangiare a un casino di gente e facevamo il bilancio trasparente della festa attaccato a queste imperiate. Fu veramente un modo per, appunto, da punto di vista, come dire, utilizzando un strumento semplice ma con intenzione politica, l'idea di rivitalizzare la festa, sperando, facendo sì che la città se ne accorgesse e fu da lì poi, io credo, che insieme al proprio il primo pub che vede questa piazza che era il circolo Jackson Pollock che era qui, che durò poco ma fu abbastanza, ci sostenne in queste nostre attività. Fu da lì che la piazza delle Elettovalie, che era assolutamente misconosciuta e non considerata dalla pubblica amministrazione, incominciarono a dire, ma cavolo, è vero, quella piazza è degradata, quando ci fanno le feste c'è un sacco di gente, però iniziamo a lavorarci. Questo è il ruolo, secondo me, delle associazioni, quello di accorgersi prima degli altri delle cose e di portarle all'evidenza di chi amministra. Io sono molto contenta perché all'epoca esisteva l'obiettione di coscienza e qui abbiamo anche degli obiettori di coscienza che sono, oltre Andrea che è stato Presidente, ma proprio gli obiettori di coscienza che lavoravano in negozio, quindi questo ci dava un bel aiuto all'epoca chiaramente, era il loro lavoro e venivano tutti i giorni, non era banale. Alberto Mancini che è veramente, che è un ingegnere, va bene, mica tutti sono perfetti, io voglio dire, va bene anche così. Io sono contentissima di essere qui, di rivedere gente che veramente non vedevo da una vita, sono troppo contenta e spero che la città in comune abbia un bel risultato. Votate Davide Cornotti.